lores da ricevere fermi tutti lores ha chiamato lores ha chiamato lores adesso lores è da tempo lo so che vuole so che vuole parlare senza essere interrotta allora diamo spazio a lores vai lores dimmi dimmi lores ciao ciao cruciani zitto zitto un attimo se no butta giù lores voglio sentire lores dopo tanto tempo giù un attimo ah butta giù e chi cazzo me ne frega me se butta giù dimmi lores cara dimmi posso sì sì vai vai niente dopo tanto tempo che vi sento parlare quello che sta succedendo a gaza appunto quello di netaniaude è un progetto messianico dei sionisti cioè distruggere spianare gaza ma come non ti pare ma cosa vuoi dire che non ti pare ma vuoi dirmi che ma tu sei l'unico al mondo con qualcun altro che non nomino innominabile che non sapeva che netaniaude non sapeva lo vuoi dire che non sapeva io non voglio che non era il corrente non era il corrente lo sapeva lo sapeva tutto il mondo di quello che sarebbe successo quel netaniaude non sapeva quello che sarebbe successo ma dove a gaza il 7 ottobre non lo so questo sono come non lo sai ma ha lasciato che succedesse perché voleva la giustificazione per poter spianare gaza va beh lores questa è una vecchia teoria un anno dopo una vecchia teoria ormai riciclata diciamo no ormai una vecchia teoria riciclata ma non è una teoria è la realtà ma non sei contenta non sei contenta che hanno bucato la testa quel terrorista là al signor singuar o non sei contenta tu io sarò contenta quando bucheranno la testa netaniaude ma questo non si può dire ma non si può dire ma questo qua è inaccettabile ma come si fa a dire il capo di stato di un governo regolarmente eletto ci sono state le elezioni ma fammi un piacere lo vuoi chiamare ma vuoi chiamare israele uno stato democratico è uno stato nazista è uno stato con il potere nazista ma ti devi vergognare di quello che dici io ti ho lasciato parlare ma ti devi vergognare ma lo faccio parlare perché lores può parlare è tanto tempo che non la sentivo ma ribadisce le stesse cazzate di dire che israele è uno stato nazista è una vergogna i nazisti sono stati quelli che sono stati non puoi paragonarlo agli israeliani sei una follia al governo di israele dai so che lo dicono i molti lo dicono anche gli intellettuali lo dicono anche i professori universitari dunque lo può dire anche lores lo può dire anche lores per carità di dio appunto dice anche che vuole vedere l'italiano morto per carità è un augurio uno può vedere chiunque morto io preferisco che muogliano i terroristi comunque comunque quando finirà quando finirà il massacro ma quando finirà di massacrare mezzo mondo no perché quello lì sta infiammando mezzo mondo andrà a processo andrà in galera ma perché non te la prendi con i terroristi con gli stati con gli stati vicini che vogliono distruggere israele ma fammi a sentire su Teheran non hai niente da dire su Teheran su Teheran non hai niente da dire su Teheran su Teheran sì quando avrà fatto fuori Netanyahu dirò qualcosa anche di su Teheran ma che c'entra dai tu ma come cosa c'entra ma tu vivi nel tuo mondo voglio ascoltare una cosa ma tu vivi un altro mondo ma scusa ma tu sai che cos'è quel mondo è anche popolare quello che dici incredibilmente certo che lo so ma io faccio il tifo per i Mossad faccio il tifo per i Mossad io faccio il tifo per i Mossad quelli che con tre anni di anticipo riescono a protestare di certe persone che esplodono ma certo ma non riescono a vedere cosa sta succedendo io capisco la tua obiezione Lores io capisco l'obiezione di Lores Lores ti dice siccome hanno preparato un'operazione per tre anni con i cerca persone eccetera come hanno fatto a non prevedere il 7 ottobre a non prevedere se il mondo Lores uno alto sei metri con altri sei metri di reticolato va bene Lores dove ti informi tu? dove ti informi? sull'internet dove ti informi? dove ti informi? ma no no su internet io cerco io cerco di capire le cose però posso dirti una cosa Lores posso dirti una cosa ma tu smettila di frequentare Porro e ascoltare cose che dice quel deficiente là perché c'entra pure Porro? poi ce l'hai pure con Porro ce l'hai ma anche Porro si anche Porro si perché c'è la Porro? perché è troppo filo israeliano per te perché è troppo filo israeliano per i suoi gusti per Lores dai su è una cosa assurda dai su ma di qualcosa a Lores abbiamo capito che tra le tante ma allora tu dimmi eppure una filo Hamas abbiamo capito che è pure filo terroristi abbiamo capito pure questo è non bastava che fosse una stronza Novavax dovete smetterla voi colioni di sinistra di dire che se uno non vuole farsi un siero è Novavax perché siete dei delinquenti ma è tutto legato se uno non vuole farsi un siero non è Novavax è tutto collegato siete tutto collegati se una non è contro la guerra non è contro la guerra di quel cocainomane suddito degli Stati Uniti di Zelensky quello che suonava il pianoporte col cazzo che è una guerra tra procura che sta macellando il suo popolo se uno dice che non vuole quella guerra là non è pro Putin hai capito? ma chi la deve? ma tu sei pro Putin però tu sei pro Putin tu sei pro Putin Lores l'hai sempre detto che ti piace un certo punto ma è meglio di Zelensky chi è meglio di Biden scusa eh non ho capito io ma tu quelle cose che dici qua le cose che dici qua alla radio se fossi da Putin non le potresti dire sarebbe lì ma falle ma smettila di dire cazzate io ho degli amici russi ma fammi un piacere ho degli amici russi c'è la democrazia in Russia c'è la libertà di parola adesso in Russia più di qua più di qua più di qua più di qua la democrazia è più che in Italia ma non diciamo minchiate ma tu ti rendi allora comunque tutto è evidente questa povera scema della Lores l'abbiamo conosciuta all'epoca del covid poi è un indipendentista anche prima ma sì ma lo dici a tua madre a tua figlia hai capito coglione coglione è una poveretta è una poveretta è una poveretta è una zucca vuota che non sei altro scema lo dici a tua madre a tua moglie a tua figlia ma l'ha detto scema non è che ha detto chissà che ha detto scema una povera sciocca una povera sciocca sciocca lo dici a tua madre a tua sorella a tua figlia sciocca lo dici a tua madre a tua moglie a tua figlia e ma non lo sono questo è il tema perché più che sciocche più che sposare te più che tesoro calma calma giù 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 Lores sta dicendo qualcosa tesoro tesoro scusami tesoro tesoro grande tesoro a casa mia siamo tutti vaccinati vabbè questo che c'è te le metto tutti insieme te le metto in fila tesoro lo dice tua madre amore amore lo dice tua madre e siccome tu sai cosa significa quell'amore lì aspetta Lores fai sentire a casa tua siamo tutti vaccinati poi siamo tutti vaccinati tutti filo atlantisti tutti filo americani tutti filo israeliani per due stati e due popoli ma comunque contro il terrorismo internazionale e siamo tutti convinti che tu sia una testa di cazzo penso di parlare a nome di tutta la famiglia che pur non ha ascoltato la radio se ascoltasse la radio la famiglia l'unica cosa sulla quale converrebbe con me è che tu sia una povera imbecille questo non ho ombra di dubbio replica replica di Lores replica di Lores benissimo lo dice tua madre la tua sorella e tua moglie benissimo grazie grazie del preziosissimo contributo questa è la libertà fermi tu grazie grazie grazie